Miss Margherita Mare 2020 arriva da Barletta e la concorrente numero 8 Monica Paparusso. C'è voluta la determinazione degli organizzatori della Miss Margherita Mare per non interrompere una tradizione lunga 23 anni con il concorso di bellezza che da sempre è legato alla stagione estiva a Margherita di Savoia. L'emergenza sanitaria però ha costretto a cambiare location scegliendo l'elegante lo smeraldo di Canosa di Puglia ma non la bellezza di questo evento che sceglie la più bella dell'estate. Ad essere incoronata è stata la ventenne barlettana Monica Paparusso emozionata ma a suo agio nello sfilare così come le altre 16 concorrenti davanti alla giuria del premio. Tra bellezza e moda la serata organizzata da Nino Di Pace e condotta da Lele Procida e Antonella Piccolo ha miscelato musica con gli assoli del sax di Nicola Forges e ballo grazie alla coreografia proposta da Universo Latino a far da cornice alle vere protagoniste della serata le giovanissime aspiranti Miss. Regalare un momento di serenità e svago dopo mesi difficili per l'emergenza covid è il risultato tanto voluto e ottenuto dall'organizzazione della Miss Margherita Mare già proiettata all'edizione dei 25 anni da riportare in piazza. Regalare un momento di serata in piazza.